E ne approfitto anche per dirvi che nei prossimi anni a seguito di un accordo con la direzione artistica del premio Pagadini tutti i dilucitori del premio Pagadini sono ospitati dalla nostra orchestra e quindi questa è una grandissima notizia, un grandissimo onore e sono veramente felice di pubblicarlo. Quindi stasera è un programma ancora, un programma bellissimo, di grande prestigio, di grande difficoltà come vi ho detto la scorsa settimana, la nostra orchestra sta sfruttando prove veramente difficili sempre con grandi risultati. Quindi voglio ringraziare ancora tutti voi che siete qui e la nostra grandissima orchestra e vi raccomando avremo altri due bellissimi programmi la settimana prossima, il 30 e la settimana successiva con grandi artisti con ancora due pianisti di grande livello artistico quindi vi aspettiamo sempre ancora oggi e grazie ancora.